Musica Bentrovati a Sport News Grande orgoglio per Treia che ha partecipato alla seconda Coppa Nazionale, i borghi più belli d'Italia, svoltasi nello splendido scenario del Lago di Garda. L'Aurora Treia Calcio a 5 ha raggiunto un traguardo prestigioso classificandosi al secondo posto. La squadra ha compattuto infatti con determinazione cedendo per 7 a 3 in finale contro la forte compagine di Tropea. In una partita ricca di emozioni Aurora Treia è stata sconfitta portando però a casa un meritatissimo secondo posto che conferma il grande valore della squadra e il legame profondo tra sport e territorio. Ci occupiamo invece ora di volley, esordio casalingo positivo per la Rutten Futura Tolentino nella prima gara del campionato di Serie D regionale femminile. Vince infatti 3 a 0 sulla compagine della Ciam Pallavolo Ascoli, squadra giovane ed insidiosa. Ma scopriamo di più nella sintesi del servizio. Coach Mosca, tre punti, un buon inizio, un buon viatico per l'avvio di questa stagione? Sicuramente sì. Indubbiamente era complicato perché come non ci facciamo mancare mai abbiamo iniziato subito con due infortuni e quindi abbiamo dovuto subito trovare la quadra per la formazione della partita di oggi. Quindi i ragazzi sono stati abbastanza bravi perché non è che sono particolarmente soddisfatto della partita però è importante iniziare, iniziare bene e soprattutto iniziare con tre punti e quindi va bene così. Ecco dicevamo un cambio di ben cinque elementi rispetto alla scorsa stagione e la sfortuna ha voluto che praticamente i due centrali che erano arrivati quest'oggi non erano disponibili. Sì esatto, abbiamo rivoluzionato totalmente la squadra anche per esigenze perché comunque le mamme non potevamo farle rientrare e quindi abbiamo abbassato decisamente l'età media e quindi lavoreremo per cercare di portare subito al livello queste ragazze che sono giovanissime perché c'è un 2006, c'è un 2004, un 2003 che vanno a sostituire delle ragazze comunque più grandi. Ecco più grandi, purtroppo ecco c'è stato l'infortunio di Anna, una ragazza del 2004 che si è fatta male al ginocchio e Vittoria che è la più giovane del gruppo che è un 2006 ma è una ragazza molto molto talentuosa che ieri si è bloccata con la schiena e quindi speriamo di recuperarle entrambe quanto prima. È vero che l'anno scorso il girone, cioè la parte dell'Ascolano, il livello, esclusa Grotta Zolina che poi ha vinto il campionato, il livello era un po' più basso, però so anche che diverse squadre tipo San Benedetto, la Tena Volley e l'altra San Benedetto si sono rinforzate con degli innesti importanti anche della Serie C, quindi sinceramente io non so quale sia il livello delle altre. Io devo sicuramente pensare al livello della mia squadra che secondo me ha dei grassi margini di miglioramento e quindi proveremo ogni allenamento a migliorare nei vari fondamentali. Grazie. Allora Chiara, chi ben comincia è a metà dell'opera, si dice normalmente, un 3-0 importante e soprattutto che vi dà fiducia nei propri mezzi. Sì, è stata una prima partita tosta perché comunque l'altra squadra ha saputo tenere la partita e noi abbiamo capito che non possiamo lasciare neanche un punto perché altrimenti ci passano avanti e non ce lo possiamo permettere. Ecco, è stato un secondo set particolare, a un certo punto eravate proprio fuori del set, eravate con la testa forse fuori, poi però pallone sopra pallone siete riusciti a rientrare in gara e poi è stato anche fondamentale gli ultimi punti del secondo set. Sì, forse è un nostro difetto quello di prendere un po' sotto gamba le partite, vinto il primo set però dobbiamo appunto tenere botta, come si dice da noi a Ravenna, e continuare al massimo soprattutto per la prossima partita. Ecco, un girone D di serie D femminile, come lo vedi tu rispetto agli altri passati? È più forte, è più debole cosa? Che delle si è fatte? È impegnativo più che altro per le trasferte che quest'anno sono molto più lunghe rispetto agli anni passati però dai, abbiamo fiducia in tutta la squadra e nello staff che ci supporta sempre. Grazie. La partita del volley futura Tolentino andrà in onda in forma integrale questa sera dalle ore 21.30 circa su Canale 16 e verrà poi riproposta anche giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 13. Settimana di partite di bocce di buon livello alla polisportiva Spazio Stelle di Stella di Monsampolo per la quinta edizione del trofeo Panificio di Girolamo. La vittoria è andata del Fredo Bacchetti ed Emiliano Cinaia della Sportiva che hanno avuto la meglio su Alfonso Pepe ed Andrea Seri di Monte Urano. Terzo posto per un'altra coppia di casa Sandro Ciccioli e Giuseppe Giovannucci, quarti Mauro Feliciani e Giovanni Battista Traini di La Salaria. Un'altra grande chermesse boccistica dopo i campionati italiani juniores dello scorso anno sarà ospitata nelle Marche in provincia di Pesaro Urbino nel weekend 18-20 ottobre prossimi. Alla bocciofila la combattente di Fano sono in programma i campionati italiani della Raffa per atleti paralimpici nelle specialità Sitting e Standing per atleti con disabilità fisiche e DIR per atleti con disabilità intellettivo-relazionali. In totale circa 160 partecipanti con altrettanti accompagnatori al seguito. Teatri dell'evento, anche altri quattro bocciodromi delle Fanese in cui si disputeranno le fasi eliminatorie. Alle finali di domenica 20 ottobre sarà presente la maschera simbolo del Carnevale di Fano detta El Voulon, accompagnata dalla banda caratteristica dalla musica arabita. E con quest'ultima notizia sportiva è tutto per questa edizione odierna delle TG. A tutti voi una buona serata. A tutti voi una buona serata.